Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto tappeti tappeto Killing Fars 236x158. I motivi di questi tappeti sono minimalisti, i colori ben armonizzati in una scala cromatica naturale e chiara. Le sfumature di questa scala cromatica sono tessute a mano con un tessuto irregolare in modo selettivo, per ottenere un bordo dal fascino artistico e dal colore naturale. Seconda scelta. La preghiamo di notare che, la forma del tappeto è asimmetrica. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazonity, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.